Ehi! Questa non è rotta! C'è un messaggio! Una preghiera dei giganti Affinché gli antenati veglino su di loro E li guidino verso casa Ragazzo... Aspetta! Credo di sapere come funziona Guarda! Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma Veglieranno anche su di noi durante il viaggio Andiamo La strada è lunga Indietro Nella galleria Vado Attenzione Altre prove In aria avranno scavato questi tunnel per agitare le trame Buon per noi O meglio, buon per me Non ci credo Non sei d'aiuto Ci vediamo dall'altra parte No! 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 Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Non ci credo. 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 Moriremo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Fatto. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. E ora ti credo. E ora ti sei divertito? Ok, dovrei preoccuparmi di più. Siamo al capo. No, siamo bloccati. quanto dobbiamo proseguire. Quanto dobbiamo proseguire? non ci credo. 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 È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarsi. Siamo quasi in cima. 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 Linfa cristallizzata. Siamo quasi in cima. 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 Sì! Grazie a tutti 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 Padre! Grazie a tutti 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 Forse Grazie a tutti 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 Odino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti